Grazie a tutti. Grazie a Galia che ci ho prestato e mi ha accettato questa notte. Io non so se Sria ha voglia di dire le tue parole, se hai voglia di fare un salutino questa gente ti applaudirà perché ti vuole bene. Cosa posso dire? Non ho idea. L'origine, l'origine del libro, quello l'ho potuto dire. C'è il ragazzo della Cedana. Dunque, mi piaceciare dire che il libro riporta, non il pianetto di Urbino, riporta il pianetto degli torbi, perché diceva Franceschi che la lingua di Urbino è troppo taglianizzata. Secondo lui, io mi sono rivolta a lui perché un ragazzo che veniva a scuola da noi non parlava con nessuno. Sepporteva, faceva vedere i pugni, la fosse un'altra. E un giorno io l'ho domandato il perché e mi ha detto perché io parlo solo di dialetto, parlo in dialetto. E allora, e dice allora, voi dovete parlare di dialetto con me, voi avete ragione, non capite, giusto. Ma come facciamo? Allora sono andata in classe, l'ho chiesto ai ragazzi, i ragazzi mi hanno detto che sì, ma tutta la classe ha consentito. E la grande difficoltà è stata, quando il mio dialetto, io i compiti li faccio in dialetto. Ma come io come faccio a correggere il dialetto? Non sono trovata che stai fatta. Allora sono, ho cominciato a cercare vecchi testi di Urbino, per esempio la Bromorona di Venimento, oppure vecchi testi. Come si è rivolta Franceschi, Franceschi mi ha dato delle indicazioni e io ho potuto correggere i suoi compiti. Poi in un certo momento ho capito che non bastava nemmeno saper correggere i suoi compiti, bisognava sapere scrivere il dialetto. Per me è stata una difficoltà molto grande, comunque l'ho superata. Questo ragazzo è riuscito, ed è riuscito tanto bene, che in una pagina delle monite di dialetto lui ha saputo tradurre una poesia di Pasqualù, di Pesarese, nel dialetto di Urbino, nel dialetto della Cesane, che vuol dire la comprensione e saper notare le differenze. Cosa capirete, per vero è molto importante perché è un lavoro di ricerca. Sento un lavoro di ricerca, io volevo capire, no? Comunque è un ragazzo che l'italiano l'ha imparato, l'ha imparato, se non lo sapeste. I ragazzi hanno imparato il dialetto, la difficoltà è stata di trovare chi ci dava gli spunti, perché bisognava andare dalle persone molto vecchie, molto molto vecchie. I ragazzi sono stati bravi, perché hanno consultato zii, nonni, parenti, ha capito? Poi hanno fatto, c'è una pagina lì, la differenza fra di loro, io ho preso 4-5 ragazzi, la differenza degli accenti, del modo di dire. A un certo momento ho avuto la difficoltà perché uno di questi ragazzi non era d'accordo con gli ragazzi. Allora Franceschi mi ha spiegato di domandare, domandare, chi erano i nonni dei ragazzi, infatti il ragazzo che non si associava con gli altri, aveva una nonna calabrese. Ecco il perché, la differenza degli accenti, la differenza del modo di dire. Allora ti hanno dovuto superare anche questo. Comunque il lavoro è riuscito, il lavoro è riuscito. Grazie. Gira, gira tonde, le nevi vanno a fonde, l'imperse spesette, Mussolini ta' freghe. Se vincerà i tedeschi, non se starà fresche. Se vince l'Inghilterra, non va giù per terra. E per un'altra cosa, poi è una pesa. Vengo a ringraziare chi ha preparato tutto quello che si arriva, il potere di fare risalmare. E una persona, e per me è un'unica, cioè gli amici e amici. Grazie. 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 Grazie.